Probabilmente non era la prima volta che agivano. Insieme e con una certa astuzia, due donne, un'anziana e l'altra più giovane, sono entrate nella tabaccheria di Trebaselle che hanno acquistato caramelle e sigarette e poi sono uscite. Subito dopo il titolare, 29 anni, si è accorto che dalla vetrina mancavano quattro statuette di Mascia e Orso, il cartone animato tanto amato dai bambini. Prima ha pensato che la moglie le avesse vendute, poi ha scoperto che erano invece sparite. Così è andato in fondo ed ha visionato le immagini della videosorveglianza. Con sorpresa ha notato che le due donne, con una certa destrezza, si sono infilate in tasca le statuette e poi si sono allontanate. Il titolare ha intenzione di denunciare l'accaduto non tanto per il valore della merce rubata, ma per mettere in guardia dalle due donne gli altri colleghi. Le immagini del filmato, messo in rete e ripreso dal gazzettino.it, sono nitide e mettono in evidenza la velocità d'azione in cui le due donne hanno agito prima di andarsene a bordo di un'auto.